Portano ancora una volta alla firma della giudice di Manfredonia Rita Tricarico, presidente facente funzioni della seconda sezione del Tarpuglia, i due decreti monocratici che sospendono momentaneamente le interdittive antimafia adottate dal prefetto di Foggia Carmine Esposito nei confronti del ristorante Guarda Chelluna di Manfredonia e dell'ido ristorante Bagni e Bonobo di Siponto, entrambi del sipontino Francesco Romito. Un analogo atto era stato assunto da Tricarico ad aprile per il ristorante Guarda Chelluna e poi revocato dal collegio. Francesco Romito ha annunciato per sabato l'inaugurazione della stagione estiva dei Bagni Bonobo che da anni è il cuore della movida del golfo. Si tratta della famiglia che per la prefettura foggiana e gli inquirenti sarebbe ancora fortemente implicata nel clan Romito Ricucci Lombardi e quindi nella mafia garganica. Adesso l'attesa è per il 21 giugno, la data in cui si svolgerà la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale per ambedue i casi, dunque Guarda Chelluna e Bagni e Bonobo.